Il treno regionale, 19-1-4-5, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto a Ula Lunigiana, delle ore 5.37, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, San Pietro Avico, Pallerone. Il treno regionale, 18-6-1-4, di Trenitalia, proveniente da Lucca, è diretto a Livorno Centrale, delle ore 5.51, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pisa San Rossore, Pisa Centrale. Il treno regionale, 18-8-5-1, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto a Lucca, delle ore 6.25, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ripafratta. Il treno regionale, 18-5-5-0, di Trenitalia, proveniente da Lucca, è diretto a Ponte d'Era Casciana Terme, delle ore 7.06, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 18-5-5-3, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto a Lucca, delle ore 7.16, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Rigoli, Ripafratta. Il treno regionale, 18-5-5-2, di Trenitalia, proveniente da Lucca, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 7.28, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pisa San Rossore. Il treno regionale, 19-1-4-9, di Trenitalia, proveniente da Piazza Alserchio, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 7.58, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pisa San Rossore. Il treno regionale, 19-1-5-7, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto a Piazza Alserchio, delle ore 8.01, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Castelvecchio Pascoli, Fosciandora Cesarana, Villetta San Romano. Il treno regionale, 34-0-0-0, di Trenitalia, proveniente da Montecatini Terme, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 8.14, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pisa San Rossore. Il treno regionale, 18-4-8-8, di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 8.15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pisa San Rossore. Il treno regionale, 19-1-4-7, di Trenitalia, proveniente da Aula Lunigiana, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 8.28, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pisa San Rossore. Il treno regionale, 19-1-5-1, di Trenitalia, proveniente da Minuciano Pieve Casola, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 9.04, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pisa San Rossore. Il treno regionale, 3-4-0-3-5, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto a Montecatini Terme, delle ore 16.30, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Rigoli, Tassignano Capannori, Porcari.